Intour, Innovative Tourism. Si chiama così il progetto promosso dal gruppo bancario Icrea e dalla BCC Buccino Comuni Cilentani per rilanciare e ammodernare l'offerta turistica nel Cilento. L'iniziativa è stata presentata a Santa Maria di Castellabate in una gremita Villa Matarazzo. Il gruppo bancario cooperativo mette a disposizione una serie di prodotti e dei servizi consulenziali dedicati alle piccole e alle medie imprese. L'obiettivo futuro è di poter entrare nel mercato delle grandi realtà turistiche ricettive, arrivando ad anticipare il modello di offerta turistica. Intanto dobbiamo fare buona banca. Per fare buona banca bisogna creare prodotti, bisogna essere in grado di dare risposte ai clienti. Noi non siamo però una banca come tutte le altre, quindi dobbiamo essere una buona banca locale, una buona banca di credito cooperativo. L'idea di mettere in rete, di creare le sinergie, di avere un approccio diverso con il turismo, che non sia la solita cartolina da ostentare, ma che dia numeri, dati e possibilità di permettere ai vari operatori, ai clienti e alla banca di crescere perché c'è un'opportunità economica. Allora in quel caso ecco che una buona banca diventa una buona banca locale. Il turismo è il tema centrale nell'agenda non solo europea e italiana e deve essere centrale anche nell'agenda del Cilento e dei nostri territori. Oggi parlare di turismo potrebbe sembrare semplice ma in realtà è molto complesso perché il turismo e in generale l'accoglienza rappresenta il business trainante dell'economia mondiale. Anche l'organizzazione mondiale sul turismo nell'ultima rilevazione nel suo report ha evidenziato come gli afflussi abbiano raggiunto circa un miliardo e 300 mila turisti, per cui l'incremento di questo settore è davvero rilevante. Il turismo nel Cilento che è un territorio che sta crescendo sotto questo punto di vista è sicuramente il settore economico trainante, quindi è importante fare rete e stasera qui a Villa Matarazzo c'è stato un esempio di quelle che sono le possibilità appunto in tema turistico di fare rete, di fare squadra. La presenza di tantissimi operatori turistici testimonia il fatto della profonda sede di conoscenza, di informazione, di formazione da parte degli operatori del settore. Ritengo che sia una categoria, un settore che probabilmente è un po' abbandonato a se stesso, quindi giornate di formazione come queste a cura del Banca Credito Cooperativo Buccino e Comuni Cilentani e del gruppo bancario Icrea che poi è il promotore di questo in-tour che è importantissimo, questo giro d'Italia per parlare di turismo e sia importantissimo, ma non solo, anche la presenza di federalberghi della provincia di Salerno e delle amministrazioni perché stasera è presente il comune di Castellabate, era presente il comune di Agropoli, il comune di Monte Corice, sta a significare che il gioco di squadra può portare dei risultati.